Lo hanno preso a Branca Leone, a 60 chilometri da Reggio, ma a lui erano interessate le polizie di Belgio, Germania e Colombia. I cacciatori dei carabinieri hanno catturato ieri il narcotrafficante internazionale Saverio Romeo, 59 anni, legato alle famiglie della Locride per le quali avrebbe gestito il traffico internazionale di droga. Arrestato nel 2006 in Germania perché in possesso di 64 chili di polvere bianca purissima, l'anno successivo sarà condannato dalle autorità della Repubblica Federale, il paese in cui ormai da anni risiedeva. È rimasto in carcere fino al 2013, poi nello scorso febbraio è stato condannato a 4 anni di reclusione in Belgio per aver effettuato trasferimenti di denaro verso i cartelli colombiani della COCA, mettendo a disposizione dell'organizzazione internazionale persino la sua casa tedesca. Un personaggio di spicco, secondo le polizie di Mezzomondo, della gestione del flusso di cocaina che viene riversata nel continente europeo. Un broker capace di mediare tra l'andrangheta, i cartelli colombiani e la criminalità locale. Romeo si trova adesso nel carcere di Reggio, dove attenderà la pronuncia della Corte d'Appello sulla propria estradizione a Bruxelles. Francesco Creazzo per la Cineus 24